Domenica si svolgerà Vivi Città, il tradizionale appuntamento che coniuga sport ed impegno sociale e che vede da sempre protagonista Radio 1. 34 città interessate in Italia, 11 all'estero, anche in Giappone, coinvolti tre istituti penitenziari a Milano, Catanzaro e Monza. Questi numeri della 36esima edizione di Vivi Città, organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti, la WISP, al via domenica 31 marzo una gara podistica che mira a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul valore della coesione sociale. L'uguaglianza è in gioco, lo slogan di questa edizione, Vincenzo Manco, presidente nazionale WISP. L'importanza è soprattutto avere una cittadinanza consapevole e partecipe, quindi non soltanto vivere una bellissima giornata di sport, ma nel momento in cui si corre, si cammina e quindi si partecipa, avere anche la consapevolezza che quel luogo, quel momento, è anche un modo per costruire diritti, per costruire solidarietà, per costruire partecipazione, per costruire anche pace, visto che noi con la raccolta di fondi facciamo anche interventi di solidarietà internazionale, soprattutto nel nord del Libano, verso dei ragazzi a svantaggio sociale.